In questa lezione parleremo di rette tagliate da una trasversale e utilizzeremo GeoGebra per creare le varie figure che ci servono. Innanzitutto partiamo dalle due rette G che è quella fucsia ed F che è quella verde e sono due rette incidenti tagliate dalla trasversale H. Mentre nella prossima lezione vedremo il caso di due rette parallele tagliate dalla trasversale. Quindi in questo caso le due rette F e G non sono parallele o possiamo semplicemente dire che non è necessario che lo siano per stabilire quello che stiamo per dire. Indichiamo con E ed F i punti di intersezione tra le due coppie dirette, quindi tra G ed H E è il punto di intersezione, tra F ed H F è il punto di intersezione. Qui alla nostra sinistra abbiamo la parte algebrica di GeoGebra che per il momento non ci serve e quindi possiamo anche nasconderla. A questo punto numeriamo i vari angoli che si vengono a formare e vediamo come si chiamano. Innanzitutto ricordiamo che ogni volta che due rette si incontrano formano quattro angoli, quindi vanno a dividere il piano in quattro angoli. Quindi ad esempio considerando la prima coppia di rette G ed H andiamo a vedere che incontrandosi nel punto E formano quattro angoli. Questi quattro angoli non sono tutti e quattro congruenti perché le due rette non sono perpendicolari. Allora andiamo a numerare gli angoli. In questo modo possiamo stabilire con il piano in quattro angoli. con più semplicità i nomi degli angoli. Prima di stabilire i nomi dobbiamo dare i nomi le zone. Allora questa zona è una zona esterna. Questa zona anche è esterna perché non è nella parte interna alle due rette considerate mentre questa è interna. Quindi una volta stabilito questo diciamo che gli angoli 1 e 8 sono angoli alterni esterni. Esterni perché sono nelle zone esterne. Alterni perché sono uno da una parte e uno dall'altra rispetto alla trasversale. stessa cosa gli angoli 2 e 7 sono alterni esterni. Alterni perché sono uno da un lato e uno dall'altro rispetto alla trasversale H e esterni perché sono le fasce esterne. Analogamente gli angoli 3 e 6 sono alterni interni. Quindi alterni perché sono dalle parti opposte rispetto alla trasversale e interni perché sono nella fascia interna. Stessa cosa 4 e 5. Mentre cambiamo coppie di angoli. Gli angoli 1 e 5 e 2 e 6 3 e 7 4 e 8 sono coppie di angoli corrispondenti. ad esempio 1 e 5 sono corrispondenti perché sono entrambi nella parte diciamo alta rispetto alle due rette. Quindi sono corrispondenti possiamo ricordarlo in questo modo. Anche gli angoli 2 e 6 sono corrispondenti per lo stesso motivo. Stessa cosa 3 e 7 sono corrispondenti perché sono invece entrambi in basso rispetto alle rette. e stessa cosa 4 e 8. Togliamo i nuovi segni che abbiamo messo per non creare confusione. Adesso invece passiamo a parlare di angoli coniugati sia interni che esterni. Allora per quanto riguarda i coniugati interni sono gli angoli 3 e 5 e 4 e 6 quindi sono coniugati perché sono vicini e interni perché sono nella parte interna. Quindi 3 e 5 e 4 e 6 sono coniugati interni. mentre 1 e 7 e 2 e 8 sono coniugati esterni. Coniugati vi dovete ricordare sono entrambi dalla stessa parte. Quindi 3 e 5 sono entrambi a sinistra e nella parte interna e quindi sono coniugati interni. 4 e 6 sono entrambi a sinistra e quindi sono coniugati esterni. Mentre 2 e 8 sono entrambi a destra ma dalle parti esterne e quindi sono coniugati esterni. In base poi alle varie misure caratteristiche di queste coppie di angoli abbiamo una condizione che si chiama criterio di parallelismo che vedremo nella prossima lezione. Quindi per quanto riguarda questa lezione quello che dobbiamo imparare è il nome delle varie coppie degli angoli. Adesso vi metto qui nella lezione una tabella con tutti i nomi degli angoli che corrispondono ai numeri che abbiamo visto finora.